Un programma presentato da Zaccagnini Buonasera, eccoci qua, nuovo appuntamento con questa rubrica che si chiama A tutta A dedicata al calcio femminile di Serie A vi presento subito gli ospiti di questa sera vi dico subito che non c'è Giulia Di Camillo però è ben sostituito da Piero Vittorio l'addetto stampa della Chieti Calcio Femminile Buonasera Piero tra l'altro insieme a lui c'è un ospite internazionale perché abbiamo il piacere di ospitare qui nei nostri studi il nuovo acquisto della Chieti Calcio Femminile Kaylee Green, buonasera, benvenuta Buonasera Kaylee, te lo dico subito, parla esclusivamente inglese, conosce pochissime parole ed italiano però il lavoro preziosissimo di Piero che fungerà anche da interprete questa sera quindi sei nel doppio ruolo di commentare un po' le gesta comunque del Chieti Chieti che tra l'altro, lo ricordiamo, non ha giocato sabato scorso a causa proprio del maltempo che ha imperversato in tutto il centro Italia c'era la neve, lo stadio Angelini doveva giocare contro le Iesino, una partita importante, partita che è stata rimandata parleremo di questo, ci proietteremo ovviamente a sabato prossimo per questa sfida anche questo è un recupero contro il Mozzanica insomma, parleremo del Calcio Femminile naturalmente conosceremo soprattutto Kaylee Green anzi, subito la prima domanda per Kaylee può scattare la classica fotografia, può in qualche modo Piero presentarsi agli appassionati e ai telespettatori le sue caratteristiche tecniche come giocatrice Dice che chiaramente lei è una giocatrice di caratteristiche offensive però le piace molto partecipare alla manovra della squadra e anche alla parte difensiva della partita quindi una giocatrice abbastanza tutta a tutto campo sì, a tutto campo chiaramente le piace segnare le piace segnare anche perché il Chieti di golo ne ha fatti pochini anche se poi vedremo la classifica più o meno sono quelli i punti che poteva aspettarsi in considerazione anche del fatto che il Chieti è l'unica squadra ad aver giocato meno di tutte le altre mancano tre partite all'appello quindi sicuramente qualche altro punto in classifica poi la vedremo la squadra allenata da Lelo Di Camillo sicuramente l'avrà poi alla fine del girone d'andata però i suoi gol servono come il pane solo dieci gol hanno realizzato in otto partite finora sono stati realizzati solo dieci gol confidiamo anche nei gol di Keilig per aumentare questo bottino di reti perché avremo bisogno anche di lei per arrivare al nostro obiettivo che quest'anno è la salvezza chiaramente è un obiettivo difficile ma io confido molto nel gruppo e nell'inserimento anche di questa nuova ragazza nel gruppo per andare bene tra pochissimo vedremo anche la giornata perché ripeto il Chieti è l'unica squadra insieme ovviamente al suo avversario la Iesina che sabato scorso non è potuta scendere in campo invece sono scese regolarmente in campo tutte le altre tra pochissimo vedremo anche che cosa è successo a livello di risultati però volevo ancora una domanda per Keilig Green intanto first time la prima volta in Italia perché Chieti? lei è una nazionale gallese lei è originaria del Galles anche se proviene da una squadra inglese perché hai scelto Chieti e ero in Inghilandia per giocare quali sono i tuoi emozioni e i tuoi sentimenti in Italia e in Chieti? basically I wanted a new challenge I wanted a new experience and Keilighe they offered me the opportunity to develop that so yeah I come to Italy to play in Series A with Keilighe and I hope I can do well here my experience here so far has been brilliant the team is so welcoming they've been kind obviously the snow has been a major part to it but hopefully get on to more training and hopefully get on to play and show what I can do quindi abbiamo capito è una nuova esperienza per lei è una sfida in qualche modo sì è una sfida dice comunque giocava in Inghilterra non conosceva Chieti però Chieti dà la possibilità di fare questa nuova esperienza calcistica per lei ha trovato una bella accoglienza dice che le ragazze l'hanno accolta molto bene si trova bene qui a Chieti ha trovato anche la neve quindi è vero sul fatto di aver trovato la neve quindi insomma l'accoglienza alle pare molto positiva ecco del campionato italiano cosa conosceva e soprattutto se c'è differenza con il campionato inglese suppongo di sì perché da quelle parti magari è più sviluppato il calcio femminile what did you know about the championship in Italy and which are the difference between the England and Italy? honestly I didn't know I knew about Series A but not a great deal on it until you know Chieti was interested and I come into this league there's quite a difference between English and Italian league but you know yeah there is quite a bit of a difference to be honest had to say but yeah da quello italiano molto diverso lei non conosce molto il campionato italiano però dice sarà una bella esperienza le piacerà molto sicuramente essere in Italia e giocarsi bene al meglio questa sua esperienza e vuole dare il massimo per il Chieti chiaramente thank you for the moment for the moment allora vediamo insieme allora con la regia di Francesco Specchiulli il quadro grafico dei risultati dell'undicesima giornata eccoli qui come detto Chieti-Jesina l'unica partita non disputata a causa del maltempo della neve in particolare che era caduta copiosa in Abruzzo e all'Angelini e poi il Como ha battuto 2-1 il Tavagnacco questo è un risultato se vogliamo anche un po' sorprendente Piero poi il 3-0 invece quasi normale della Fiorentina sulla Res Roma anche se la Res Roma è una squadra molto tosta il 5-0 esterno del Brescia sul campo del Luserna il Mozzanica che ha piegato 3-1 il San Zaccaria e poi la vittoria per 4-1 del Verona sul Cuneo vediamo la classifica, classifica parziale perché ci sono delle squadre che hanno giocato tutte le gare tutte 11 le gare, altre come il Chieti addirittura soltanto 8 altre 9, altre 10, insomma è una classifica parziale come dicevo a comando troviamo comunque la Fiorentina quota 27, Brescia 24, Verona 21, Res Roma 20 punti Tavagnacco 19, Mozzanica 18, Cuneo 12 punti Como 9 punti, Chieti 7, San Zaccaria 6 chiudono Iesina e Luserna a quota 3 punti allora dicevamo di questa vittoria un po' sorprendente del Como per 2-1 in casa contro il Tavagnacco grazie a questi 3 punti tra l'altro il Como ha superato proprio il Chieti anche se il Como ha disputato 11 partite il Chieti invece soltanto 8 quindi anche questo è da tener conto Piero sì certamente è da tener conto visto che noi dobbiamo recuperare queste 3 partite confidiamo di fare il massimo di punti in questi 3 match che ci attendono in modo tale magari da metterci meglio in classifica sì è stata una vittoria sorprendente quella del Como però il Como è una buona squadra anche quando è venuta qui si è pure ha perso la partita 2-0 avete vinto è stato il primo successo storico del Chieti è stato il primo successo storico in Serie A ripeto però è una buona squadra quindi non mi sorprende più di tanto anche se chiaramente vedendo la classifica il Tavagnacco come si vede a 19 punti quindi è un'ottima squadra già da tanti anni disputa buoni campionati in Serie A però ripeto non mi sorprende più di tanto la vittoria del Como e poi c'è questo 3-1 del Mozzanica contro il San Zaccaria tra l'altro Mozzanica e San Zaccaria saranno i prossimi avversari esterni del Chieti sabato prossimo ci sarà proprio la sfida in provincia di Bergamo contro il Mozzanica che è un recupero recupero della non aggiornata e poi sabato 21 ci sarà l'altro recupero in casa della San Zaccaria Ravenna una squadra di Ravenna non si sa ancora quando invece verrà recuperata l'ultima partita non disputata dal Chieti in casa contro la Jesina sarà sicuramente dopo queste due partite in mezzo alla settimana perché a questo punto diventa anche difficile trovare una data Piero beh sì certamente andiamo incontro a un calendario veramente difficile perché insomma non ci ha creato non pochi problemi questo stop improvviso è arrivato in mezzo al campionato tra l'altro ecco ricordiamo invece che le due giornate la nona e la decima non sono state disputate o comunque in parte soltanto a causa degli impegni della nazionale italiana impegnata in Brasile per un torneo internazionale allora facciamo così visto che Mozzanica e San Zaccaria si sono incontrate e saranno i vostri prossimi avversari sabato prossimo e sabato 21 entrambe in trasferta queste due partite noi abbiamo la sintesi di questa partita terminata con la vittoria del Mozzanica sul San Zaccaria per 3 a 1 vediamo la sintesi il Mozzanica raccoglie contro San Zaccaria 3 punti in un gelido pomeriggio di gennaio Elio Garavaglia ripropone il collaudatissimo 11 visto in campo contro il Verona prima della sosta mentre suo collega Nardozza mescola un po' le carte lasciando in panchina Pastore e Cimatti puntando in avanti su Baldini e l'Eterna con la Suono mentre tra i pali torna a titolare Tampieri l'avvio è di marca bianco celeste ed infatti Locatelli e compagni trovano presto il vantaggio al terzo Scarpellini cross al centro per Giacinti la cui volè di prima attenzione è deviata in angolo da Quadrelli dalla bandierina va Fusarpoli che pesca in area Giorgia Motta la girata al volo della freccia della Versilia è precisa e letale e non lascia scampo a Tampieri le ospiti hanno una buona occasione per pervenire al pareggio 5 minuti dopo sul lancio di Colasuono Pondini di prima serve Baldini che si infila nei 16 metri orobici ma a suo destro termina la corsa contro l'esterno della rete difesa da Gritti il pallino del gioco è in mano alle locali che però non riescono a concretizzare Giacinti al 22esimo cerca di raggiungere la sfera sul tocco di Pirone ma non riesce a dar forza al fendente e Tampieri blocca accartocciandosi al 24esimo le padrone di casa provano a complicarsi la vita pasticciando in difesa Rizzone atterra Principi a ridosso dei 16 metri è la stessa numero 10 ospite specialista nei calci piazzati ad incaricarsi della battuta unendo la retroguardia locale con un colpo a giro che toglie le ragnatele dall'incrocio la reazione bergamasca però è immediata bastano infatti solo due giri di lancette per ritornarne avanti e a suonare la carica è Scarpellini che con una pennellata alla Botticelli serve il pallone a stracchi l'inserimento centrale è perfetto per scelta di tempo e altrettanto bella l'incornata precisa ad attaccante vero sulla quale Tampieri inutilmente protese in tuffo non può nulla al 28esimo la solita Scarpellini lancia Giacinti che fugge via velocissima viene affrontata da Quadrelli ma il rimpallo favorisce Pirone che prolunga per Scarpellini la cui conclusione è però debole e centrale è ancora la numero 10 bianco celeste oggi in graspolvero a cercare la porta da fuori aria ma la sfera sorvola la traversa in pieno recupero Pirone riceve un colpo alla schiena in mischia ma fortunatamente riesce a riprendersi e a tornare in campo per iniziare il secondo tempo chi non ce la fa invece con la suono che rimane negli spogliatoi sostituita da Razzolini a parte questo non cambia molto nello spartito nei primi minuti della ripresa sono sempre locali a fare la partita ma senza trovare lo spiraglio giusto questo almeno fino al ventesimo quando Stracchi dà il lado un fulminante contropiede imbeccando Giacinti che a sua volta serve a destra Pirone si apre un'autostrada per l'ex Napoli che non si fa pregare si presenta davanti i tampieri e la infila con un preciso destro sul secondo palo al ventitreesimo la scatenata numero 11 bianco celeste offre un pallone d'oro a Giacinti che trova l'ottima posizione in uscita dell'estrema difendente Ravennate la palla danza sulla linea di porta ma è più ceri cemini a sbrogliare la matassa mister Garavaglia decide di cambiare qualcosa inserisce Pellegrinelli per Baldi che riuscirà a dare più consistenza alla spinta offensiva Giacinti è un'altra buona occasione ma il suo tiro è di poco sopra la traversa al trentatreesimo Baldini cade in aree locali in un contrasto con Rizzon apparso nettamente regolare alla trasformazione va l'ex Torres tu ceri cimini ma lei si agritti indovina l'angolo e vuole a respingere salvando così la porta bianco celeste nel finale il tecnico delle Eurobi che getta nella mischia anche Tonani per Pirone ed è proprio la numero 3 bianco celeste a sfiorare il poker quando servita alla perfezione da Pellegrinelli da pochi passi spreca calciando addosso Tampieri vicino al poker anche Giacinti in pieno recupero ma il panzer della Valcavallina non riesce ad arrivare per un soffio alla deviazione sul cross dalla destra di Scarpellini dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara cessa le ostilità il Mozzanica incomincia il 2017 con una vittoria e portando così al trofino in cascina sabato prossimo la surma di mister Garavaglia proverà a ripeterci con il chieti dell'ex Riboldi insomma ha ricordato nella sintesi il cronista che ci sarà proprio sabato prossimo sempre in casa il Mozzanica ospiterà il chieti dell'ex Riboldi a proposito Riboldi ha recuperato completamente dall'infortunio Piero sta recuperando sta recuperando dovrebbe essere della partita certo anche questo però comunque sta recuperando bene tra l'altro questa sconfitta del San Zaccaria è costata la panchina al tecnico Nardozza Gianluca Nardozza che è stato sollevato dall'incarico al momento gli allenamenti sono diretti dal preparatore atletico Massimo Magrini e dal direttore sportivo Fausto Lorenzini però sicuramente nelle prossime ore ci sarà un nuovo tecnico del San Zaccaria prima di parlare di questa sfida col Mozzani che volevo coinvolgere di nuovo il nostro ospite Kaylee Green attaccante il nuovo attaccante del chieti anche se abbiamo sentito da lei che è una giocatrice a tutto campo un po' volevo chiedere che cosa può promettere dal punto di vista oltre che l'impegno e anche qualche gol alla piazza teatina dice che promette il massimo impegno il massimo lavoro lavorerà tanto per dare il cento per cento e promette grandi cose insomma che vuole fare molto bene qui a chi tra le sue caratteristiche tecniche come giocatrice piede destro sinistro di testa come come preferisce diciamo realizzare i suoi gol in qualche modo come preferisci a giocare con i suoi piedi con i suoi piedi con i suoi piedi ho dato le mie tattiche ok oltre che ho la mia piedi sono forte con i suoi piedi mi piace il ball con i suoi piedi mi piace girare e andare direttamente a il gioco dice che ha un po' una giocatrice edutile come abbiamo detto prima perché le piace segnare anche di testa però ama molto giocare anche di piedi quindi comunque si adatta un po' a tutte le situazioni di gioco e quindi una bella giocatrice insomma sicuramente il maltempo ha condizionato anche gli allenamenti delle Chieti però così il primo impatto con l'allenamento con le nuove compagne e con anche il tecnico Lello Di Camillo com'è stato questo tempo si è allenata già qualche volta con le compagne Kayleigh did you train with your new friends in team and Com'era la tua impressione, la tua sensazione con il entrenatore e con i tuoi amici? Sì, ho trainato due volte con Ketty, l'intensità è buona, il team work tra le ragazze è fantastico, infatti come ho detto, non ho trainato due volte per causa del snu, ma mi piaceremo in questo momento e come ho detto prima, non mi sento aspettare ad andare sul pitch e giocare con le ragazze. Prima perché è stata accolta molto bene dalle ragazze, si trova molto bene, si è allenata due volte, perché poi c'è stata questa interruzione per la neve chiaramente, però il feeling con le ragazze è molto buono, si trova bene, l'hanno accolta bene anche a casa, quindi ha belle sensazioni. E allora parliamo di questa sfida di sabato del Chieti in casa del Mozzanica, formazione bergamasca, un Mozzanica che guardando la classifica la troviamo piuttosto in alto, 18 punti, ha giocato 9 partite, quindi ne ha vinte 6 e ne ha perse 3, insomma un brutto cliente sicuramente al di là del fatto che ha vinto 3 a 1 contro il San Zaccaria, anzi forse vi ha fatto anche un favore perché il San Zaccaria è rimasto a quota 6 in classifica, questo però dimostra che non sarà una partita semplice, anzi sarà una partita piuttosto difficile per il Chieti. No, è una partita molto difficile, come hai detto bene, è un'ottima squadra, il Mozzanica sta facendo un bel cammino in campionato, ha vinto l'ultima partita come abbiamo visto nella sintesi, ha un'ottima coppia d'attacco Giacinti-Pirone. Sette gol a testa hanno realizzato. Sì, poi ha anche un ottimo portiere Gritti che recentemente è stata anche la nazionale. Tra l'altro è una squadra che segna anche parecchio perché 24 reti in 9 gare, sono quasi tre gol a partita. Sì, segna parecchio perché come hai detto ha un'ottima coppia d'attacco, ma anche Baldi e Scarpellini che segnano spesso, anche se Baldi non sarà della partita perché è impegnata con l'Under 17 quindi non potrà essere in campo. Però insomma è una bella squadra, ripeto segna spesso, segnano parecchie giocatrici quindi comunque si fa capire che è anche un bel gioco che costruisce bene anche in fase d'attacco, subisce anche pochi gol, quindi è un'ottima compagine però confidiamo di fare bene a Mozzanica chiaramente. Ecco Piero, tu hai parlato, apriamo questa parentesi, della nazionale Ender 17 però mi viene in mente che c'è una vostra giocatrice Gloria Marinelli che adesso è impegnata proprio con la nazionale, se non ricordo male, l'Under 21 o con la maggiore? Con l'Under 21? No, l'Under, sì. Con l'Under, sì. Con l'Under. Ecco, che notizie avete? Come si sta questi allenamenti? Ha telefonato, ha parlato con qualcuno, con il tecnico? Che notizie avete? In realtà non ti so dire sinceramente. Certo è una bella soddisfazione avere una nostra giocatrice nella nazionale, insomma è sempre bello ed è chiaramente una bella soddisfazione pure per Gloria tornare a vestire i colori azzurri. Gloria sarà disponibile per sabato? Penso di sì, credo di sì. E a proposito di disponibilità, invece Kaylee Green manca ancora il transfert, dico bene, per quel che riguarda la sua possibilità di giocare subito in campo? Sì, ma è ancora un po' incerta la cosa, quindi non sappiamo ancora se potrà essere in campo sabato. Questo lei ovviamente è un po' incerta, sì. Le vuoi chiedere se le dispiace di questa situazione che ancora non è possibile per lei scendere subito in campo e dare una mano alle compagne? Se sarà così, perché può darsi pure che è l'ultimo arrivi. Sì, adesso in questo momento non si sa ancora come è la situazione, come ho detto anche io prima, però comunque andrà con la squadra. Farà il tifo, il tifo per la squadra. Anche se non dovesse andare in campo comunque andrà insieme alla squadra, quindi già si è ben inserita, già questo è un bel segnale. Kaylee, quali sono le parole di italiano che conosci? Non so se vuoi fare questa domanda. C'è qualche parola che conosci subito. Ciao. Ciao. Sì, aiutato molto. Sì, no. Buongiorno. 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 Not many words. Galles, Wales, home. Very little, very little. Ma vorrà imparare sicuramente in questi mesi. You want to learn Italian. Sì, sì. Yes, yes. The girls who I live with, they're trying to teach me. Dice che le ragazze con cui vive stanno cercando di insegnarle a parlare l'italiano. Lei dove ha la sua abitazione, la sua casa? A Chieti o qualche altra parte? In Chieti? In Chieti, yes. Sì. Chieti. Ok. Tornando invece a parlare di calcio proprio giocato. Quindi una trasferta, dicevamo, impegnativa. Insomma, sicuramente bisognerà tirar fuori la grinta, la famosa grinta, la determinazione che chiede il tecnico Lello Di Camillo alle sue ragazze, no? Perché è una gara effettivamente severa, in qualche modo. Sì, è una gara difficile, ripeto, però io sono fiducioso perché seppur c'è stato questo stop di più di un mese a questo punto, perché è stato quasi una quarantina di giorni, però male di stop, la squadra si è allenata sempre. Quindi comunque credo che non sarà difficile ritrovare quel carattere che ha sempre voluto il mister e che nelle ultime giornate in particolar modo si era visto, soprattutto nella ultima partita che avevamo giocato in casa, che avevamo vinto con una bella prestazione e mostrando un bel carattere. Insomma, la caratteristica principale del Chieti è stata sempre quella, quindi cercheremo di portarla anche a Mozzanica in modo tale da fare una bella partita. L'ultima partita non disputata sabato scorso in casa contro la Jesina, forse magari giocarla, chiaramente con un risultato positivo di una bella vittoria, sarebbe stato meglio, no? Nel senso che adesso il periodo di inattività è piuttosto lungo, almeno per il Chieti che è l'unica, ripetiamo, che non ha giocato a causa del maltempo della neve. Non so, questo potrebbe in qualche modo essere un piccolo postacolo. L'inizio sarebbe stato meglio giocarla, però chiaramente le condizioni climatiche non permettevano assolutamente di disputare la partita. Adesso ci attendono queste due trasferte, Mozzanica e San Zaccaria, che recuperiamo, ripeto, dopo lo stop di dicembre, poi non so quando verrà recuperata la partita con la Jesina, però sono tre partite comunque molto, molto importanti nell'ambito del calendario. Anche perché poi comincerà il girone di ritorno, per voi lo avevamo già messo in evidenza, sicuramente un girone di ritorno molto, ma molto impegnativo perché incontrerete, così senza soluzione di continuità, le migliori, no? Sì, è successo già. Brescia, Fiorentina, anche poi Verona, quindi insomma... Sì, è successo già nel girone di andata, chiaramente essendo una neopromossa abbiamo affrontato le migliori squadre nelle prime giornate. Ora però al girone di ritorno ci arriviamo con un'esperienza maggiore. Questo è vero. È chiaro che l'impatto con la Serie A è stato veramente difficile perché si vede il livello tecnico diverso e chiaramente superiore rispetto al campionato della B che disputavamo e abbiamo vinto trionfando l'anno scorso, però è logica cosa che l'impatto con la Serie A abbia un'altra cosa. Adesso però, ripeto, secondo me ci arriviamo in buone condizioni nonostante lo stop che abbiamo avuto, quindi confido che possiamo far bene. Noi puntiamo chiaramente alla salvezza, quindi ci piacerebbe arrivare alla salvezza diretta, è logico, è dura perché comunque ci sono squadre sopra di noi che insomma stanno messe meglio in classifica. Però anche se dovessimo arrivare magari a disputare i play-out ce la giocheremo fino alla fine perché vogliamo forse rimanere in Serie A. Allora facciamo così, abbiamo circa quattro minuti ancora di tempo, due li spendiamo, circa due minuti con un servizio che vuole essere così bene augurante per il Chieti. Sono i gol in musica realizzati dalla formazione Nero Verde, e dieci gol in totale, cinque dei quali realizzati da quella che è l'attuale bomber Nero Verde, Gloria Marinelli. Allora, prego la regia di mandare in onda questo breve filmato. I never tried to be a hero, you took us from the stars. To zero, we had a love been found without a shred of doubt. We never worried about other people. You broke the spell and wanted something else. Well, go fuck yourself with other people. Other people. No more song, no more dance, no dance floor. We left it all to chance. No more song, no more dance, no encore. We had a love been found without a shred of doubt. We never worried about other people. You broke the spell and wanted something else. Well, go fuck yourself with other people. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, he's a loving guy. His sessions are well put out. And yeah I'm looking forward over the next couple of months and I think I can progress and learn with him. Dice che si trova molto bene, una bella sensazione con lui, ha un buon feeling e chiaramente andrà a migliorare anche nei prossimi mesi perché confida molto di migliorare questo feeling anche col tecnico e di far bene. E cosa si augura allora da questa esperienza Kayleigh? Dice che vuole migliorare calcisticamente e chiaramente confida di fare anche più gol per la nostra squadra. E c'è bisogno dei suoi gol. Allora, thank you for your disponibility, Kayleigh Green, il nuovo attaccante del Chieti Calcio che però ancora probabilmente sabato non si sa se potrà scendere in campo, sicuramente però dalle prossime partite, sabato 21, arriverà questo benedetto transfert e potrà scendere. Thank you, thank you. Thank you very much. Allora, Piero abbiamo ancora un minuto o anche meno, 30 secondi, come vogliamo concludere con un ringraziamento, con un invito. Certo, io ringrazio sempre i tifosi del Chieti che comunque ci stanno seguendo sempre con più affetto. Anche l'anno scorso ricordiamo sempre quella magnifica giornata della promozione con tanta gente allo Stato di Angelini, ma anche nelle prime partite in casa si sono sempre venuti numerosi e continueranno, penso, a seguirci bene. Quindi il mio ringraziamento maggiore va a loro che ci seguono con grande affetto. Grazie a Piero Vittorio, ha detto stampa, ma in questo caso anche prezioso interprete per la giocatrice straniera Kayleigh Green che parla esclusivamente inglese. In bocca al lupo, eh? In bocca al lupo è un augurio, glielo vuoi spiegare? Good luck. Good luck. Grazie. Ok, grazie mille, grazie regia a Francesco Specchiuli, questa trasmissione tornerà puntuale mercoledì sera. A risentirci.